Nel 1932 fu organizzata una conferenza internazionale sul disarmo. Vi partecipò Albert Einstein. Le discussioni erano molto complicate. Si discuteva su che cosa potesse rendere più o meno umana la guerra. Einstein non era d'accordo con queste complicazioni e convocò i giornalisti per dire la guerra non può essere resa umana, la guerra può essere solo eliminata. A tanti anni di distanza il libro di cui stiamo parlando, che è Una persona alla volta di Gino Strada, sostiene la stessa tesi. Gino Strada è chirurgo, questo è un libro verità, racconta la sua esperienza nei paesi di guerra, perché Gino Strada ha lavorato per Croce Rossa internazionale nei paesi di guerra e ha poi fondato negli anni 90 del novecento Emergency, una organizzazione non governativa che cura le vittime della guerra, le vittime delle mini anti uomo e le vittime della povertà. La guerra Gino Strada l'ha vista tante volte, quanto basta per capire che non risolve mai i problemi da cui scaturisce, da cui nasce. Anzi, come dice Gino Strada, la guerra è essa stessa il problema. La guerra ha una predilezione per le vittime deboli, colpisce i disarmati, i civili, i bambini. La guerra crea povertà diffusa e ricchezza per pochi. È arrivato il momento di dire no alla guerra, di dire basta di mettere in campo quelle belle energie positive, morali, che hanno portato al superamento della schiavitù e che possono portare oggi al superamento della guerra. La prima parola è scelta, una parola che compare proprio all'inizio del libro. Gino Strada ha compiuto spesso scelte coraggiose e controcorrente, è esercitato scegliendo la sua libertà. Ha scelto di realizzare un progetto ancora prima di sapere se fosse realizzabile. In questo senso per noi è un esempio. La seconda parola è cura. Gino Strada pensa che il diritto alla cura sia un diritto di tutti, che ciascuno di noi abbia diritto a ricevere le cure di cui necessita, indipendentemente da chi è o da quanto denaro abbia nei portafogli. Gino Strada ha costruito degli ospedali nell'Africa subsahariana bellissimi, all'avanguardia e bellissimi perché i luoghi di cura fossero luoghi in cui veniva garantita dignità alle persone. La terza parola è mondo, che è anche l'ultima parola del libro, che si chiude con la formula linguistica cittadini del mondo, proprio perché la nostra felicità dipende dalla felicità degli altri, siamo interconnessi. Il libro, oltre che prestarsi a una lettura individuale, proprio perché tocca interrogativi così profondi, si presta a una lettura di gruppo, in cui i punti di vista possono scontrarsi e incontrarsi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.